La trattativa per la cessione del Barletta Calcio potrebbe essere ad un punto di svolta. Arturo Romano, ex presidente della Viterbese, è atteso in città nelle prossime ore per chiudere l'accordo con il presidente onorario biancorosso Mario Di Miccoli. Ancora da definire nel dettaglio i termini dell'operazione, ma il potenziale acquirente del club dovrebbe fare il suo ingresso in società acquisendo la maggioranza delle quote della SSD, lasciando la minoranza invece a Francesco Di Miccoli, attualmente con il 40% delle quote biancorosse, le parti dovrebbero accordarsi anche sulla mole debitoria fiscale e contrattuale, argomento che dovrebbe essere affrontato nell'incontro in programma nella giornata di martedì. L'intesa ufficiale potrebbe arrivare nelle prossime ore o direttamente mercoledì con una conferenza stampa congiunta di Mario Di Miccoli e Arturo Romano. Michele Di Benedetto, invece, nonostante l'ultimo incontro con il presidente onorario biancorosso domenica sera a Trani, non avrebbe trovato l'accordo sulle condizioni poste dallo stesso Di Miccoli. Romano, che ha chiuso in maniera burascosa la sua esperienza da presidente alla Viterbese, potrebbe essere il nuovo proprietario del barletta a partire da questa settimana.